La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon martedì a tutti, bentrovati con il nostro appuntamento mattutino con la rassegna stampa. Andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, vediamo quali sono i principali titoli e i principali argomenti trattati. Partiamo dal mattino nazionale, in primo piano e in apertura si parla dell'economia del sud, perché si sta registrando una fuga delle aziende straniere dal meridione, non solo l'Ilva di Taranto, infatti pare che anche la Whirlpool abbia confermato il suo addio. E vediamo il titolo. Sud, aziende straniere in fuga, Ilva di Taranto, gli indiani di Mittal smobilitano, non pagano i fornitori e ora i tecnici cercano altri lavori. Jabil di Caserta, svolta nella notte, niente licenziamenti, Whirlpool di Napoli, fallisce l'ultima mediazione. Andiamo avanti perché torneremo su questo argomento nelle pagine successive. Lo scenario, il mezzogiorno ha un vantaggio che non deve essere sprecato. La grande paura che in Italia tutti abbiamo avuto quando è scoppiata la pandemia del Covid-19 è che nelle regioni del sud potesse verificarsi un disastro al tempo stesso sociale e clinico. I più preoccupati, conoscendo la situazione dei loro territori a partire dal funzionamento non sempre ottimale della sanità pubblica, erano ovviamente gli amministratori locali pronti a chiedere l'intervento urgente dello Stato al minimo segnale di crisi. Ma il peggio, nonostante i timori, non si è verificato. Questo per quanto riguarda i casi di contagio che, ricordiamo, sono rimasti comunque contenuti per tutto il periodo dell'emergenza. Andiamo avanti nella fotonotizia. Il mattino presenta il suo reportage all'interno dell'ospedale Cotugno. Vediamo la prima volta nei reparti, tra gli ultimi contagiati, viaggio nel cuore del Cotugno. E poi la proposta del ministro Boccia, che sta però registrando comunque un dissenso anche all'interno dello stesso governo, anche all'interno della stessa maggioranza. Vediamo il caos assistenti civici antimovida, no del Viminale. Chi li controlla? Andiamo di spalla. L'applicazione per l'individuazione di eventuali casi. Vediamo app, sperimentazione al via in tre regioni, di apertura in Lombardia e Piemonte, in biligo nel nord-ovest i due terzi dei nuovi contagi. E poi invece per la politica, ricordiamo che ora si pensa alle prossime elezioni regionali. Catello Maresca potrebbe scendere in campo. Il magistrato Anticamorra, vediamo l'intervista al PM antimafia. Catello Maresca scende in campo ma senza partiti. La Campania ha bisogno di una grande squadra. Il no dei vertici di Forza Italia. Invece Lega è interessata alla proposta proprio di un esponente civico da sostenere. Infatti ricordiamo che la Lega ha più volte proposto proprio come candidato alla presidenza un civico. Andiamo avanti. Il caos giustizia, il casertano Piccirillo, nuovo braccio destro del ministro Bonafede. Per quanto riguarda invece le notizie in basso, la riforma da fare, un nuovo CSM anti-ordalia giudiziaria e poi la polemica scuola nel gaudo ma il digitale non è dittatura. I professori universitari che nel 31 si rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo furono 15 in tutto, altri dicono 12. Quanti sono oggi quelli che si rifiutano di fare lezioni sulle piattaforme digitali? Anche meno forse il numero non è noto. Andiamo nei box in alto. Vediamo per la cultura gli scavi, l'ultimo enigma di Pompei, il nome mummia in un graffito. Mentre per il calcio ci si sta preparando ad una ripartenza del campionato orari e rischio infortuni. i giocatori puntano i piedi sulla ripartenza. E poi andiamo a Ravello, l'etuale abbagnato a Villa Rufolo per l'omaggio al genio di Wagner. Questa è la prima pagina del mattino nazionale. Andiamo avanti sempre sulle prime pagine, ci spostiamo sulla prima pagina del mattino di Salerno. Parliamo di turismo in apertura, vediamo niente turisti, la resa dei BNB, prenotazioni disdette e costi alti. Non riapriamo finché non c'è un serio piano di rilancio. I gestori salernitani bocciano l'ordinanza del presidente della regione De Luca, regole poco chiare, un favore agli abusivi. E vediamo poi servizi, spiagge liberi, ingressi scaglionati, ma resta il rebus, ticket e verifiche. Per le notizie di spalla, test sierologici, 4.000 chiamate in 29 comuni, no in zona rossa. Sono partite anche nel Salernitano le prime telefonate della Croce Rossa per contattare i cittadini individuati dall'Istat da sottoporre a test sierologici. Si tratta di uno studio nazionale che coinvolgerà 150.000 persone in tutta Italia per stimare chi ha sviluppato anticorpi al coronavirus. in provincia sono in tutto 29 comuni scelti per un totale di circa 4.000 persone coinvolte. Ricordiamo che tra i comuni scelti non ci sono i 5 comuni che sono stati indicati come zona rossa. Andiamo avanti, la scuola slitta il concorso e il nuovo anno ricomincerà con 1.200 supplenti. Per le notizie a centro pagina, allarme movida, non sono criminali ma solo ragazzi, parla Ficarra, il questore, i controlli continuano, il questore invitiamo a correttezza e buonsenso ma non possiamo impedire gli incontri in piazza. E poi nella fotonotizia la storia ad Angri vincono il virus insieme, poi il sì in mascherina e dal contagio alle nozze. La violenza, commercianti aggredito abbottigliate per una cover, questo per la cronaca, mentre per le notizie di spalla. L'ambiente, rifiuti, basta impianti a battipaglia e sarno, rifiuti, stop impianti a battipaglia e sarno, approvato dal Consiglio Provinciale, provvedimento con il quale sono state dichiarate aree sature, quelle dei due comuni. E poi la riqualificazione nell'Expen Italia, l'industria del caffè, ecco il progetto di riconversione. Andiamo di taglio basso, il calcio salernitano, un protocollo da mezzo milione, ripartenza al Mary Rose, i primi 40 tamponi negativi per giocatori e staff. Per le fotonotizie la poesia inedita, quando Gatto celebrò il coraggio partigiano e poi l'incidente in Cilento, ossionato mentre lavora alla fabbrica dei fuochi, è stato trasferito a Napoli. Nei box in alto, sotto il titolo di testata, il racconto, Alice salva l'amica Andrea, ma arrivano brutte notizie. E poi la cultura, Zuliani, giovani laureati per musei da riprogettare. Questi principali titoli per la prima pagina del mattino di Salerno, continuiamo sulle nostre prime pagine, andiamo sulle cronache, vediamo il titolo di apertura. Nuove regole per le spiagge, De Maio avverte, spiagge libere, bagni a rotazione. L'assessore lancia le nuove regole, si potrà andare al mare tre o quattro giorni a settimana, bisogna prenotare a chi e aspettare il via libera. Questa è l'idea per l'utilizzo delle spiagge libere a Salerno. Andiamo avanti, il comitato tecnico scientifico lo suggerisce al governo, si voti nei primi giorni di settembre, confermati i due giorni, ora la decisione finale. In alto Giordano attacca Saviano, faccia i nomi alla procura, il presidente dell'ordine di Salerno, siamo persone serio. Sur e commercialisti sindacati presentano querella, ricordiamo il caso che ha fatto tanto discutere, le parole dello scrittore Saviano che ha attaccato i commercialisti, la categoria dei commercialisti, lasciando quasi ipotizzare un accordo proprio tra commercialisti e anche usurai. Andiamo avanti, voto alla provincia Battipaglia e Sarno, no ad impianti di rifiuti, ieri il consiglio provinciale, e poi hanno già l'inferiore, il tribunale fermo, l'appello dell'avvocato Passero, mentre alla regina Margherita, insegnante di sostegno, trasferita. Per le notizie di spalla e la politica regionale, centro-destra gelato da Maresca, sono un civico. E ancora Ponte Cagnano, Maria Barbara Avacchiano, mio figlio in carcere, paga il nome della mia famiglia. Questa è la prima pagina di Le Crona, che andiamo sulla prima pagina della città, vediamo i principali argomenti in apertura. Bar chiusi, i furbetti della Movida, Salerno, alcol dopo le 23, dai fuori legge, crack turismo, conti in rosso. Questo è in sintesi quanto sta accadendo dal punto di vista dell'economia, per quanto riguarda anche Bar e non solo, in vista anche dell'estate. Andiamo avanti nella fotonotizia, 26 maggio 1985, arriva Papa Voitila a Salerno, ed ecco qui la fotoricordo. E poi ancora il racconto del testimone, Don Comincio, il vento del santo, spirò sullo golfo. Per le notizie di spalla. Trasporti, vertenza Bus Italia, prefettura, riunione senza spiraglio, nell'agro, da Scafati a Nocera, l'andirivieni dei sospetti Covid e poi per di fumo, fuochi d'artificio, scoppio in fabbrica, ferito il titolare. A Eboli, Moldava, da tre mesi attende la sepoltura, il giallo si infittisce, sempre per la cronaca, la decisione. Battipagli e Sarno, stop locale ai rifiuti, ma la regione può cambiare ieri il consiglio provinciale con la decisione. Per le notizie di fondo, in primo piano Bogart, ultimo ballo, Maffei, non riapro. E poi in costiera, sindaci, caos spiagge, due euro per tuffarsi, la scuola tra prof e sostegno, taglio di 388 posti. Ancora il reportage, l'odissea dei tunisini, finisce a Salerno. Per le notizie di taglio basso, il calcio salernitana, tamponi negativi, granata al lavoro, mentre la B discute tra playoff e riforme. Poi il reportage, sport, è lenta la ripartenza per il rispetto dei protocolli. Queste le nostre prime pagine. Andiamo ora, torniamo ora sul mattino nazionale, andiamo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo visto proprio dalla prima pagina, partendo dalle economie e dalle aziende straniere che stanno abbandonando il sud, oltre all'ilva di Taranto, anche la Whirlpool ha confermato i licenziamenti. Ma vediamo i titoli anche per quanto riguarda il caso della Jabil. Jabil, rottura nella notte, restano confermati i licenziamenti. Teletrattativa notturna con il governo, prima lo spiraglio, poi invece è arrivato il no dell'azienda, l'ira del ministro, la grande rabbia dei dipendenti, malori tra gli operai. Nella notte la notizia sorpresa, accordo raggiunto in teletrattativa. Anzi no, congelati i 190 licenziamenti alla Jabil di Marcianise, poi di nuovo man mano che passavano le ore prendeva definitivamente corpo la linea dura della multinazionale americana Jabil che si è rifiutata in extremis di rifirmare l'accordo che sembrava cosa fatta, la rabbia del ministro e i malori dei lavoratori. E andiamo avanti, per quanto riguarda invece lo stallo sulla Whirlpool, l'azienda conferma la chiusura, fallisce l'ultima mediazione per Napoli, la richiesta dei sindacati, non separare la trattativa da quella sugli altri siti italiani. Ciudiamo questa pagina, andiamo avanti sempre sul mattino e parliamo del caso degli assistenti civici perché ricordiamo nei giorni scorsi è arrivata la proposta del ministro Boccia per il bando per assistenti civici che dovevano aiutare praticamente i comuni nei controlli contro la Movida. Una proposta che però da più parti è stata bocciata anche dallo stesso PD, ricordiamo ad esempio l'intervento di Orfini che ha sottolineato come se non si vuole che la gente che è in strada non si apre, quindi secondo Orfini a questo punto se bisognava inserire gli assistenti civici tanto valeva continuare con il lockdown. Ma le proteste sono arrivate da diverse parti, anche il Movimento 5 Stelle ha sottolineato come la proposta non era stata condivisa, addirittura è arrivato anche lo stop dal Ministero dell'Interno. Vediamo infatti il titolo, l'ira del Viminale che punta i piedi, troppi rischi. Chi li controlla? Al Ministero dell'Interno vedono la mossa di Boccia come una pericolosa fuga in avanti. Dubbi sullo status giuridico e sulle possibili infiltrazioni da parte di potenziali criminali. Il problema della selezione dei candidati, chi valuterà se sono idonei a ricoprire ruoli così delicati? E andiamo avanti, assembramenti stretti a Milano, dalle 19 stop agli alimenti da asporto, ma i bar resteranno aperti senza orario. E poi di Italia Basso troviamo l'intervista ad Alessandro Perrella, naturale la voglia di uscire dei giovani ma si deve evitare la seconda ondata. I campani si sono comportati in maniera corretta, non gettiamo alle ortiche, buoni risultati raggiunti. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti sempre sulle pagine del mattino nazionale e parliamo ora dei contagi. In decisa diminuzione i casi di coronavirus in Italia, vediamo infatti la fotografia pubblicata sulla pagina di primo piano del mattino, la frenata di nuovi contagi, ma è così pochi. Dal 29 febbraio, 300 malati in più del giorno prima, la metà in Lombardia, le vittime sono 92, maga, differenze ancora marcate tra alcune regioni, mantenere le restrizioni. Vediamo che in totale ad oggi sono positivi in tutta Italia 55.300 le persone, quindi al momento che risultano contagiati dal Covid. sono guariti in totale 141.981 persone, purtroppo i decessi sono 32.877. Ancora in basso uno studio smonta l'indice RT impreciso e arriva troppo tardi. E con questa pagina ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torneremo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa, andiamo sulle pagine della provincia di Salerno, sul mattino, vediamo, si parla della post-epidemia per le riaperture, lo abbiamo visto anche dalla prima pagina del mattino di Salerno, sono in tanti che stanno valutando l'ipotesi di non riaprire, in particolare per quanto riguarda proprio le strutture ricettive, vediamo, l'epidemia, la ripresa, la resa dei B&B e di case vacanze, riaprire enorme pasticcio, costi alti e zero prenotazioni, severe critiche all'ordinanza regionale senza regole certe e un favore agli abusivi. I titolari anche noi fermi perché non arriva un serio piano di rilancio di tutto il turismo, di ricominciare hanno tutta la voglia, ma quella del 25 maggio è restata una riapertura solo sulla carta, presumibilmente andrà avanti così ancora per qualche settimana, quanto meno fin quando non sarà chiarito definitivamente, quando e se verrà meno il blocco tra i confini regionali, un ostacolo con il quale i proprietari e i gestori di B&B e case vacanze sono costretti a fare i conti mentre tentano di districarsi tra la burocrazia dell'ultima ordinanza regionale, quella emessa tanto per cambiare nella tarda serata di domenica, poche ore dalla ripartenza sbotta. Così Francesco Rainis della Sinforosa hanno avuto mesi per prendere delle decisioni, invece come al solito i protocolli sanitari da seguire vengono comunicati in estremis e senza specifiche. Insomma quindi critiche all'emissione dell'ordinanza per le riaperture da 200 a 1000 euro per sanificare termoscanner, l'appello checkpoint per i clienti a carico dei comuni, crollato il mercato degli stranieri e non si sa quando sbloccheranno i confini in Campania e con i paesi esteri. E poi intanto sempre per l'estate c'è anche il Rebus Spiagge Libere a Salerno, vediamo Rebus Spiagge Libere a Summit sulla sicurezza, ingressi scaglionati, Napoli e Caramanno, controlli con vigili e capitaneria, chiudere o no Santa Teresa, atteso il verdetto dell'ARPAC, accettarà 2 euro e accesso solo su prenotazione, ma il mare ora sarà cristallino, c'è la condotta. Chiudiamo questa pagina dedicata al turismo e alla prossima estate, andiamo avanti, restiamo sempre sul mattino e andiamo a Battipaglia, ieri l'abbiamo visto, il consiglio provinciale nel corso del quale si è anche discusso per quanto riguarda la nuova proposta per la realizzazione di impianti nel Salernitano, in particolare sotto i riflettori la situazione di Battipaglia e Sarno, vediamo rifiuti, basta impianti a Battipaglia e a Sarno, la provincia dichiara i due comuni aree sature, ma è battaglia politica, deroga soltanto per il piano regionale l'opposizione, così nessuna efficacia, stranese esulta, delibera storica, attacchi strumentali, e francese accolta le nostre stanze, una scelta apripista. Andiamo avanti, centro pagina, l'avvertenza, Arsrol Mittal, chiediamo chiarezza su Salerno, protesta simbolica davanti all'ex Silvaform, siamo in CIG da due mesi. In basso, questione Fonderie Pisano, appello del Comitato, De Luca pubblichi lo studio, lettera di Forte con 150 famiglie della Valle dell'Irno, finora solo annunci, ma i dati spess sono in suo possesso. E poi il blitz contro i pirati della Dogana, il riesame conferma le accuse, regge l'impianto della Procura, e i giudici non revocano le misure cautelari nei confronti degli indagati. Chiudiamo anche questa pagina, passiamo ora sulla pagina della provincia di Salerno, vediamo. Salerno, commerciante aggredito a bottigliate, caccia due ragazzi via vicinanza, uno dei balordi prende una cover e non lo paga. Lui reagisce, viene assalito, ricoverato in neurochirurgia al Ruggi. Andiamo a Persano, piantagione di marijuana, piantagione di marijuana sequestrata a Persano, in un apprezzamento di terreno demaniale lungo il fiume Sele, al confine tra Eboli e Serre. A Vatolla, titolare ustionato alla fabbrica dei fuochi, una fiammata causata da un'improvvisa reazione chimica, mentre stava spostando dei fusti in alluminio contenenti sostanze inerti. è la causa dell'incidente di lavoro che ieri mattina ha coinvolto il 56enne Carlo Di Muoio, titolare dell'omonima fabbrica di fuochi pirotecnici a Vatolla, nel comune di Perdi Fumo. L'uomo, che ha riportato ustioni di secondo grado, è stato trasportato in eleambulanza nel centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. È ricoverato in rianimazione, ma non è in pericolo di vita. In basso, la sentenza non sospese le attività ritenute illegali, assolto il vice sindaco di San Cipriano, mentre a Vallo della Lucania, svolta tribunale in arrivo giudici e Mott, dove non risponde il ministro Bonafede, interviene il Consiglio Superiore della Magistratura, e proprio di qualche settimana fa, la delibera della nomina di un presidente di sezione civile per il Tribunale di Vallo della Lucania da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Le notizie di spalla. A Ponte Cagnano, discarica abusiva in Litorania, ennesimo scempio ambientale sulla fascia costiera di Ponte Cagnano-Faiano, una discarica abusiva è stata scoperta dai volontari delle guardie rurali ausiliari di Salerno, in una delle arterie stradali che collegano le zone interne del litorale. Poi, per la politica, pressione ad Albanella, consigliere contro il sindaco Pasquale Mirarchi, consigliere di minoranza, fa richiesta di convocazione urgente al Consiglio Comunale e chiede le dimissioni del sindaco Rosolino Bagini. Chiudiamo questa pagina, chiudiamo il quotidiano del mattino, vediamo invece quali sono le principali notizie per le cronache. vediamo in apertura sulle pagine di Primo Piano, si parla dell'estate balneare nel Salernitano, vediamo, non sarà possibile andare a mare come accadeva una volta, così titola e la dichiara l'assessore comunale Mimmo De Maio, impegnato a cercare di ordinare le spiagge libere dalla fascia costiera. Dobbiamo entrare nell'ottica della spiaggia sociale, ha detto l'assessore. E ancora, bisogna recarsi in spiaggia tre o quattro volte alla settimana, bisogna fare rotazione. Salernitani devono comprendere che non sarà possibile recarsi al mare sulle spiagge libere, così come accadeva una volta. Sono queste le parole dell'assessore De Maio, scusate, impegnato in questione a cercare di ordinare le spiagge libere nella fascia costiera. Andiamo in basso, gestione delle spiagge libere in provincia di Salerno, a decidere sarà l'unità di crisi, si parla anche di piantane, una sorta di stallo che si deve mettere a disposizione dei bagnanti che limiterà spazio su Arenile. Chiudiamo anche questa pagina, andiamo avanti, sempre sulle cronache, e andiamo sulle pagine della provincia di Salerno, vediamo, si parla in apertura del Tribunale di Vallo della Lucania. Pochi giudici, problema non più rinviabile, se la situazione non cambierà si rischia la soppressione, scende in campo il Codacons che preannuncia una petizione di protesta. E sempre per la giustizia, Conte, il ministro intervenga sul Tribunale di Vallo della Lucania, lo chiede il deputato di Leu. In basso, nel Vallo di Diano, comunità montana, misure urgenti per il sostegno del Vallo di Diano, l'appello richiesto è stato approntato da tutti i sindaci appartenenti all'organismo sovracomunale. Il susseguirsi di notizie sull'esclusione e la reinclusione della lista dei beneficiari fondi delle zone rosse dei comuni del Vallo di Diano maggiormente colpiti da Covid-19 rischia di danneggiare ulteriormente l'economia locale già duramente provata dalla pandemia. Ad affermarlo, la comunità montana Vallo di Diano, allo scopo di evidenziare tutte le problematiche emerse in questi tre mesi di lockdown, la conferenza dei sindaci si è riunita venerdì scorso, 23 maggio. i primi cittadini hanno opportunamente chiesto misure urgenti per il sostegno del tessuto produttivo del Vallo di Diano ed hanno elaborato una proposta della comunità montana Vallo di Diano, ente capofila della strategia nazionale aria interna e Vallo di Diano. Andiamo avanti, Vallo della Lucania, aula consigliare a disposizione per le tesi di laurea, per la discussione delle tesi di laurea. Chiudiamo questa pagina, vediamo per lo sport, parliamo di Serie B e di Salernitana. Vediamo Sorrisi, un pizzico di ritrovata, normalità. La Salernitana lancia lo sprint per i play-off, i calciatori di ventura a distanza e in piccoli gruppi hanno ripreso la preparazione al Mary Rosi in attesa dell'ok definitivo della ripresa del campionato e dell'esito dei test medici. In casa Granata il pallone torna protagonista. E poi ancora il campionato di Serie B ripartirà col recupero Ascoli-Cremonese. Il 20 giugno la sfida tra i bianconeri e i lombardi, mentre il 24 si giocherebbe l'intera 29esima giornata. E poi il campionato virtuale cala il sipario sulla regular season di B-Sport. La Salernitana chiude penultima una vittoria, un pari e due KO nelle ultime quattro gare stagionali per i players Granata. Al primo posto chiude il Benevento, ora è play-off per il titolo. E con questa pagina di sport chiudiamo la nostra segna stampa. Io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro TG alle 13.45. Grazie per averci seguito, auguro a tutti una buona giornata.